Nel secondo rapporto giovani che abbiamo pubblicato nel 2014, il tema principale continua a essere quello legato alle preoccupazioni del lavoro e dell'occupazione, anche se i temi comunque trattati sono ampi, questo è quello che ovviamente è maggiormente sentito. I dati sono in parte preoccupanti soprattutto in relazione alle difficoltà che i giovani trovano a realizzare i propri progetti di vita, sia lavorativi che familiari. Quindi da un lato si conferma ulteriormente un atteggiamento positivo dei giovani, una voglia di mettersi in gioco e di dimostrare quanto valgono. Quello che è aumentato è la consapevolezza di trovarsi in un contesto che continua ad essere di difficoltà e quello che è cresciuto ulteriormente è il tentativo comunque di adattarsi, di cercare comunque di fare di necessità e virtù e nel contesto in cui si trovano cercare di dare il meglio di sé. Però sono sempre più preoccupati che questo adattamento possa diventare un progressivo scadimento delle proprie prerogative, delle proprie opportunità e diventi un riadattamento al ribasso che li imprigiona in percorsi professionali, penalizzanti o marginali. Quindi questa è la loro preoccupazione. Anche perché legato a questo, quindi al rischio di rivedere progressivamente al ribasso le proprie aspettative e le proprie ambizioni, non è solo legato al scadimento delle opportunità lavorative ma alla difficoltà di realizzare i propri progetti di vita e quindi al rischio di rimanere ancora più a lungo a vivere con i genitori, a dipendere a lungo da loro economia e di realizzarsi. E con questo ovviamente, oltre che a penalizzare loro stessi, in qualche modo va ad imprigiorare delle forze, delle risorse che loro considerano principali e più importanti per far tornare a crescere e ridare slancio al Paese verso il proprio futuro.